Michelin innova in mobilità, innova in mobilità e mobilità significa anche naturalmente suole, suole tecniche e calzature. Oggi assistiamo al cambiamento della vita all'interno della città, all'interno dell'ambiente urbano, dove mobilità significa utilizzo in contemporanea di più mezzi di spostamento, significa l'utilizzo dei mezzi pubblici, dell'automobile, della bicicletta in condivisione, anche del monopattino in condivisione unito alle passeggiate all'interno dei centri storici. Questo si traduce in un'esigenza di una calzatura che, soprattutto a livello di suola, garantisca una polifunzionalità, quasi fossimo davanti alla richiesta di un crossover. Un grip ottimo sul monopattino, un grip ottimo sui pedali, ma anche unito a un'estetica che permetta di sentirsi bene in ogni condizione lavorativa e anche in ogni condizione di vita quotidiana all'aria aperta. Dal concetto di mobilità condivisa al concetto di esigenza di una calzatura che sia crossover su tutti gli utilizzi, arriviamo a un prodotto concreto. Un esempio concreto, per esempio, è l'ultimo prodotto che è stato presentato qui a Ispo dall'azienda Eco, dall'azienda danese, dove noi abbiamo sviluppato per loro una suola innovativa che permette sia l'utilizzo in ambiente outdoor, ma anche un perfetto utilizzo in ambiente urbano, nelle diverse condizioni. Quindi sia per poter garantire comfort e grip e aderenza su tutti i terreni urbani, anche magari umidi, marmo bagnato, griglie bagnate, ma un grande comfort e una grande adattabilità anche alla mobilità. Quindi ottimo per avere un grip sui pedali delle biciclette condivise, ottimo per poter guidare le automobili, ma anche per poter utilizzare mezzi condivisi come i monopattini elettrici all'interno della città. Tutto con la massima soddisfazione e soprattutto con il massimo stile. Experience the innovation. Questo è in sintesi ciò che ci guida e ci guiderà nel futuro. Grazie per la visione.